Buona. Benvenuti a tutti su Anaconda TV, ma anzi benvenuti a tutti nel mio Mistic Studio 111 e oggi avevo l'onore di parlare di lavoro e di futuro con Carla Brunetti. Ciao. Ora dovresti fare un discorso su cosa fai per dire al pubblico? Allora io mi occupo di volontariato, sono sempre occupata di volontariato. Prima lo facevo in campo internazionale, adesso lo faccio qui dove vivo e dove ho tanti amici, ho costituito un'associazione, ci occupiamo di eventi a livello culturale, turistico e no gastronomico. Ok, ora incominciamo l'intervista. Ok. Hai parlato di associazione, cosa fate in questa associazione? Allora noi ci organizziamo, ci incontriamo fra di noi e poi decidiamo le attività da fare, in base alle attività da fare contattiamo i vari soggetti che faranno parte di questi eventi e poi materialmente prepariamo tutta la parte anche amministrativa degli eventi. E perché? E perché lo fate? Lo facciamo per proporre questo territorio che secondo noi è un territorio molto bello, qualcuno di noi qui ci è già nato e qualcuno invece ci vive da diverso tempo, abbiamo voglia appunto di valorizzarlo e di farlo conoscere fuori di questo contesto. Ora cambiamo il genere, cosa vuoi fare da piccola? Guarda io da piccola volevo fare quello che poi ho fatto, cioè nel senso che volevo fare il volontario, avevo voglia di andare nei paesi più poveri per aiutare le persone in qualsiasi modo. A un certo punto della mia vita ho avuto questa opportunità e l'ho fatto per 12 anni e quindi diciamo che da piccola volevo fare esattamente questo qui. Il mio punto di ispirazione è stato un santo, un santo vissuto nel 1400 che si chiamava San Vincenzo dei Paoli che già nel 1400 si occupava dei più poveri e ha organizzato un servizio di volontariato che poi si protrae ancora oggi, quindi dopo tutti questi anni. Per concludere, in che animale ti vedi e trovi? Un uccello. Un uccello. Un uccello perché spazia, vola e quindi passa da un paese all'altro, da uno spazio all'altro. Io ringrazio Maria Calabronetti per essere qui con noi in questo lavoro e a quanti mi piace di arrivare a questa intervista. A me piace molto questa idea, mi piace molto come la porti avanti tu. Ma quanti mi piace? Quanti mi piace? Da 0 a 10? 10? Da 0 a 10? 10? Ok. Noi vi salutiamo. Ciao, grazie Federico, grazie Anaconda. Spero. 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 Spero.